Cazzo! Cosa hanno detto? Non prima di domani. No, cazzo! Cosa, sarà troppo tardi! Lo so. Ehi ragazzi, chiedete se possiamo viaggiare nella stiva con i bagagli. Nella stiva con i bagagli? Potremmo soffocare. I cani ci viaggiano sempre, amico. E non soffocano. Gesù sa. Gesù sa. Ho un modo. Un modo per proteggere Max. Da qui. Questa è Max. Quando uno attaccherà, entrerà nella sua mente. Ma posso farlo anch'io. Sono entrata in quella di mamma, di Billy. Posso entrare nella sua. Può portarmi da Vecna, come a cavalluccio. Posso proteggerla. Da uno. Combatterlo da qui. Lotta tra menti. Sì, giusto. Aspetta, pensi che possa funzionare? Mi serve una vasca. Sì, bisogna essere puliti per entrare nella mente. No, è una vasca di deprivazione sensoriale. L'aiuta a concentrarsi sui suoi poteri.